...una forma di organizzazione oppressiva in cui l'individuo è schiacciato dalla volontà generale, dal pouvoir social, invece noi liberali, che non siamo liberati da una parte che è stata l'ultima propagine di tutto ciò, siamo per l'individuo che si è esplicito in tutte le sue potenziali, meno Stato, il minimo di Stato, il massimo libertà individuale, perché? Perché dicendo che solo così si può esplicare la ricchezza e il governo alla fine dovrà asservire la ricchezza, la ricchezza comanda, il governo obbedisce, sono parole sue in questo celebre discorso che ha fatto piangere tanti liberali o simili, Ebradianio si cruda, però la fa lui, quindi come tale in un certo senso è, come dicevi, c'era un eccenzio, il sole tuo, a base di quello che tu mi dici, non invento io nulla. Nel 48 si diffonde un testo non meno celebre, altrettanto breve, il manifesto del Partito Comunista, di Marx e di Engels, dove c'è la celebre frase che il governo è il comitato di affari della classe borghese, che è la stessa cosa, è lo stesso pensiero di questo come il Costanti, proposto in forma, se vogliamo, più agitatoria, va bene, mentre in Costanti c'è un compiacimento che ciò sia, in Marx c'è la denuncia che ciò sia, ma il concetto è uguale.